Continua la marcia trionfare della Juventus, passata anche sul campo del Verona, ma non è stata una passeggiata per gli Juventini, sorpresi da un gol a freddo e costretti così a inseguire. Era il sesto di gioco quando, per questo fallo di gentile suluppi, il Verona fruiva di una punizione dal limite, tocco di mascetti per macchi e tiro violento, che Zoff non trattiene, entra Cozzi e segna. Immediata la reazione bianconera, che non dà però frutti, sia per una certa imprecisione degli attaccanti, sia per la buona disposizione del Verona, che chiude tutti i varchi, e inoltre si vale in porta di un Ginulfi in grande giornata. Così, al 35esimo, il portiere veronese devia in angolo un gran tiro di capello, e un minuto più tardi è Damiani, che manda alle stelle un bel suggerimento del regista bianconero. Dal suo canto, il Verona rompe l'assedio sfruttando il contropiede, e al 38esimo va ancora a rete con Luppi, che raccoglie il traversone di Busatta, segnando però con la mano. L'arbitro annulla, senza la minima esitazione. Riprende la sua offensiva da Juventus, che al 39esimo crea una concitata mischia nell'area del Verona, i cui difensori, sui due consecutivi tiri di capello, si salvano con un po' di fortuna. Il tempo si chiude con due ottimi interventi di Ginulfi, al 42esimo su tiro di Anastasi, e al 44esimo ancora su un bolide del centravanti bianconero. Nella ripresa giunge subito il pareggio juventino, a sua volta originato da una punizione dal limite per fallo di Busatta su Tardelli, ed è lo stesso Tardelli che batte imparabilmente Ginulfi. Insistono i bianconeri. Al 16esimo il veronese Mascetti si infortuna e deve uscire dal campo, e proprio mentre i Veneti sono ridotti in dieci, la Juventus mette a segno al 17esimo la rete della vittoria, con questa azione conclusa prepotentemente da Bettega. Reclamano per una presunta irregolarità i veronesi, ma l'arbitro convalida. Vanno il serrate finale dei padroni di casa che si proiettano in avanti con generosità. Gli juventini si difendono con calma e la porta di Zoff non corre praticamente pericoli sino alla fine.